Ma che è la prima volta che fate una retta? Che cos'è una retta, scusi? Nonno, che ci fai qui? Beh, adesso che facciamo quelli alle 19 sono qui, non è... Che avete organizzato qualcosa pensando che io non c'è stessi, no? No, affigurati. Vivere alla grande ci vuole spirito d'iniziativa. 50, con la battuta. C'è chi è fatto per comandare e chi per eseguire. Mazzan tutti! In mezzo ci sono quelli che non sono in grado di fare nessuna delle due cose. Noi siamo informatici. Come fate a vivere così? L'hai ammazzato? Quelli vanno uccisi per forza. Avete mai avuto la sensazione di essere stati imbrogliati? Che è, sei raffreddato? Allergia. Te l'hanno agli agari? E questo ce l'ha a tutti.